Un risultato importante per le famiglie in difficoltà in questa Pasqua, abbastanza difficile ed è già la seconda volta che voi avete organizzato un'iniziativa del genere, la prima già a Natale. Sì, abbiamo voluto come Lega Giovani di Teramo e Lega Teramo rinnovare questo sort of format benefico anche in vista delle festività pasquali. Dopo l'ottimo risultato già della festività natalizia in cui abbiamo raccolto 27 pacchi tra genere alimentare e genere di varia origine e oltre a una ventina tra panettone e pandori, addirittura per queste festività pasquali siamo arrivati a 30 pacchi donate alle famiglie in difficoltà per la città di Teramo. Attraverso la Caritas? Sì, donati proprio al termine del banchetto solidale, l'ho portato personalmente all'interno dei magazzini della Caritas di Teramo. Un impegno sociale importante da sempre possiamo dire, ma soprattutto in questo periodo è importante. La cosa importante è appunto aiutare laddove c'è il bisogno. Di qualsiasi natura bisogna intervenire, ancora di più se sono dei ragazzi che si mettono in discussione per aiutare chi ne ha più bisogno in questo preciso momento. Pertanto sarò sempre al fianco dei giovani Lega per aiutarli e sostenerli nelle loro varie iniziative perché comunque il vero senso della politica è anche questo, rivolgerci a coloro che veramente hanno momenti di difficoltà che hanno comunque bisogno di essere sostenuti. Poi anche i numeri sono aumentati rispetto alla prima iniziativa, c'è stata una raccolta maggiore? Sì, infatti mi preme ringraziare tutti coloro che hanno contribuito perché c'è stata veramente un interesse tra l'altro mezza giornata in meno perché il supermercato era chiuso, quindi rispetto a Natale abbiamo avuto anche meno ore per raccogliere e nonostante tutto abbiamo fatto una gran bella raccolta e questo ci rende molto soddisfatti e orgogliosi soprattutto dei ragazzi Lega.